E' un'assenza del deterrente rappresentato da Superman. Stiamo assistendo a un'ondata di criminalità a livello mondiale. E cosa hai fatto nel weekend, Diana? E io? Niente di interessante. Non ci sono protettori qui. Né lanterne. Né kriptoniani. Questo mondo cadrà. Come tutti gli altri. Si senta la mancanza dei giorni in cui la massima preoccupazione erano i pinguini che esplodono. E' una pazzia. Combattere il diavolo e il suo esercito nell'inferno. Non agite da soli. Dobbiamo farlo insieme. E' forte vedervi tutti così pronti alla battaglia. Io non so niente di battaglie. Io do soltanto un colpetto e scappo via. Tranquillo, Alfred. Me ne occupo io. Ehm... ci conosciamo? Superman era un faro per il mondo. Salvava le persone. E tirava fuori da ciascuno la parte migliore. Non lo riconosco questo mondo. Non lo devi riconoscere. Solo salvarlo. In quanti siete? Non abbastanza. Pensate davvero che... Oh, wow. Ma loro sono appena scomparci. Eh? Oh. Che maleducati. Ha detto che saresti arrivato. Speriamo solo che non sia troppo tardi. Speriamo solo che non sia troppo tardi.